Il nostro ospite di oggi, che è il direttore di ConfCommercio Como, Graziano Monetti. Graziano, buongiorno, buongiorno, benvenuto qui a Ciao Como. Grazie. 50.000 euro per averlo qui. 50.000 euro per averlo qui, come tananai. Ma c'è anche Mengoni, siamo venuti insieme. Ce l'hai portato. Ma allora Graziano, parliamo subito di argomenti che purtroppo vi stanno molto a cuore e vi preoccupano anche. Avete iniziato un tour in tutta la provincia, andate nelle varie delegazioni che avete come ConfCommercio. Cercate di far capire l'importanza ai vostri associati di essere associati perché li tutelate anche, gli date consigli e suggerimento. Però, lo hai detto anche tu pochi giorni fa, c'è questo rischio della desertificazione e che tra l'altro è supportato da dei numeri, no Graziano? Certo, purtroppo sì. Stiamo assistendo a un fenomeno, peraltro, che è in atto già da diversi anni, ma che ha avuto una crescita esponenziale proprio in questi ultimi tempi. Forse anche il Covid ha dato un'accelerazione a questo. Mi spiego meglio, cioè il commercio è in sofferenza, il piccolo commercio è in sofferenza, e questo lo sappiamo, ma quello che si sta verificando e che ci preoccupa più di tutto è questo svuotamento, impoverimento dei luoghi, delle vie, dei quartieri, di interi paesi, che sta creando anche disagio sociale e fenomeni di degrado un po' allarmanti. Questa è la locandina ufficiale intanto, mentre tu stai parlando, dei 5 buoni motivi per essere socio, no? Ecco, è tutto collegato, c'è il problema della desertificazione, il rischio purtroppo che moltissimi chiudono, e io ho visto, Graziano, non so se sei passato in centro a Erba, ma recente, e ce ne sono tanti i negozi chiusi. Cioè, come forse un po' di meno, forse sono di più, non lo so, però il rischio è quello. Purtroppo sì, guarda Marco, noi infatti facciamo questo tour per così insomma anche essere vicini ai nostri associati, cercare di proporgli tutti i servizi, insomma le cose che facciamo per aiutare un commerciante a svolgere la sua attività, ma soprattutto per ascoltarli, perché è proprio il momento dell'ascolto. Noi andremo in tutte le sedi di delegazione, quindi a Cantù, a Mariano, a Erba, a Menaggio, a Bulgaro Grasso, ma anche per esempio in aree strategiche, tipo il Porlezzese, siamo stati a Porlezza, la Val d'Intervi. Ma cosa li chiedono soprattutto adesso? Ci chiedono aiuto, ci chiedono aiuto. Ma aiuto anche per le bollette? Assolutamente. O anche, va bene, sì, immagino, poi per come andare avanti? Assolutamente, diciamo la prima cosa sicuramente è l'aspetto economico, perché indubbiamente c'è una grossa difficoltà, ma anche un aiuto in termini per esempio di formazione, per esempio noi stiamo lavorando da anni in maniera molto forte per la digitalizzazione, soprattutto del piccolo commerciante che non può prescindere ormai dagli strumenti digitali. L'e-commerce che è uno dei fenomeni sicuramente che accelera il processo di desertificazione, ma è anche un'opportunità, quindi va vissuta come tale, quindi bisogna prepararsi, bisogna essere online, bisogna avere la propria vetrina digitale, se si riesce a vendere anche i propri prodotti, i propri servizi in rete, perché quella è la strada. Questo non vuol dire far concorrenza ad Amazon o a eBay, che è una lotta impari e persa fin in partenza, però vuol dire rispondere alla propria clientela anche in questi termini. Sì, in effetti evolve il mercato, si evolve, c'è anche queste vendite che si possono fare, ecco, forse ancora non tutti sono entrati nell'ottica, giusto? Non tutti sono entrati nell'ottica, non c'è ancora una totale sensibilità, anche se molto è stato fatto da parte anche delle amministrazioni comunali, dei sindaci, noi abbiamo fatto un grosso convegno qualche tempo fa, a fine gennaio, a Villa Gallia, sono venuti oltre 60 sindaci. C'era il nostro presidente nazionale San Galli, c'era il presidente Ciceri, sono venuti oltre 60 sindaci della provincia e abbiamo proprio fatto un tavolo di riflessione su questi temi. Devo dire che molti sindaci ci hanno chiamato, molti ci hanno anche chiesto una mano per eventualmente inserire delle dinamiche che possano favorire il commercio. Cabiate in primis, il sindaco Maria Pia Tagliabue è stata pioniera in questo, ha creato proprio tutta una serie di iniziative, di ordinanze anche per favorire... Cabiate sostanzialmente sono state fatte dal sindaco affinché chi avvia lì l'attività, giusto e corretto, possa avere degli incentivi, delle agevolazioni, almeno nella fase iniziale. Esatto, esatto. Per tre anni ha delle grandi agevolazioni in termini di tasse comunali, imposte, solo pubblico e quant'altro, ma poi è il mercato che fa le sue regole e quindi sta... E' auspicabile questa cosa, quindi è il secondo commercio, è auspicabile anche da parte di altre amministrazioni, come ovviamente, va bene, perché... Guarda, io ci tengo a dire questo Marco, il presidente Ciceri sta conducendo proprio una grossa battaglia su questo fronte. Intanto siamo un'associazione un po' fuori dal corno, nel senso che a differenza diciamo della stragrande maggioranza che sta unendo, incorporando, fondendo sedi, eccetera, noi invece stiamo cercando di mantenerle con costi di gestione che puoi immaginare sono pesantissimi, però abbiamo sedi sul territorio, cerchiamo di essere capillari, cerchiamo di essere presenti, proprio perché riteniamo che essere vicini ai commercianti anche in queste zone sia sicuramente un vantaggio, insomma, ecco. Quindi stiamo portando avanti con fatica questo sforzo, ma vogliamo proprio dare questo segnale. Con questo però, altro fatto importante, se ho ancora un minuto, è quello che noi non vogliamo fare una lotta, non è una battaglia contro il progresso, chiamiamolo così, cioè non è una lotta contro l'e-commerce, contro la grande distribuzione, possono e devono esistere tutte le forme distributive, proprio una logica di multicanalità, una logica di offerta integrata, quindi il consumatore deve avere la possibilità di fare acquisti comodamente e come ritiene migliore e opportuno. Quindi non è una battaglia, è un appello alle coscienze, alle coscienze degli amministratori, ma soprattutto alle coscienze dei consumatori, che l'esistenza dei piccoli commercianti non è solo un fatto folcloristico, è davvero un valore aggiunto per la società, per la comunità. E quindi non dobbiamo perdere questo nostro vantaggio. Tieni conto, ultima cosa, che i turisti quando vengono in Italia vengono per cercare i piccoli commercianti, le piccole botteghe, i ristoranti, i bar, che è una peculiarità tipicamente italiana. Se noi ci facciamo sfuggire questo, ci appiattiamo da un'offerta turistica internazionale. E questo è il rischio che sta purtroppo toccando anche tanti comuni. sul lago, ovviamente mi pare, Valdintelvi, poi il Porlezzese, insomma sì, quella zona lì dove siete andati e dove chiaramente c'è attenzione. Allora il tour di Commercio prosegue giusto Graziano anche settimana prossima? Assolutamente, adesso le prossime tappe dovrebbero essere Cantù, se non sbaglio, Mariano, esatto. Cantù e Mariano saremo... Lunedì 6 marzo alle 10 a Mariano Comense. Esatto, e poi al pomeriggio a Cantù. A Cantù, ok. Poi il 13 saremo a Bulgoro Grasso, il 20 a Erba, poi alla mattina e poi al pomeriggio a Bellagio, e poi il 3 aprile saremo in Valdintelvi e poi chiuderemo nel pomeriggio a Comun. Questi sono gli appuntamenti ancora di Commercio Comun in tour, ne abbiamo parlato con il direttore Graziano Monetti e abbiamo parlato ovviamente di quello che c'è attorno, collegato, c'è il rischio di questa, in termine un po' così particolare, desertificazione commerciale che però è purtroppo evidente in alcune zone. Io ho detto Erba, sicuro, mi dicono anche Cantù, che insomma la situazione è andata. Speriamo che Comun riesca a tirare avanti e a sopravvivere a campare, diciamola così, proprio perché prima c'è stato il Covid, poi c'è stata la guerra, poi ci sono state le bollette, il caro energetico, insomma tante cose per i commercianti, la vita è sempre dura. Graziano, grazie di essere qui. Grazie a voi. Un saluto e buon lavoro. Altrettanto a voi. Ciao.